In questi giorni è stata organizzata una raccolta firme contro la sperimentazione della rete 5G nel comune di Montecorice. Inizia così la nota stampa del vice sindaco del comune di Montecorice Pasquale Tarallo che risponde all'iniziativa del consigliere Rosario Meola. L'iniziativa nasce in contrapposizione con quanto l'amministrazione comunale abbia o meglio non abbia fatto o peggio secondo le sue fonti non voglia proprio fare. Comprendo naturalmente la legittima preoccupazione del consigliere Meola e di quanti altri nostri concittadini ne condividano i timori per la sperimentazione, che presenta molti aspetti ancora da chiarire, sottolinea Tarallo, ma vorrei fare presente a tutti che è stata proprio l'amministrazione comunale ad informare i cittadini del comune di Montecorice che il nostro territorio è stato inserito unilateralmente dall'Agecom in una lista nazionale insieme ad altri 120 comuni su indicazione dell'attuale governo e che anche a decisione presa al comune non è arrivata ancora nessuna comunicazione ufficiale dalle autorità competenti sul perché siamo stati scelti, come per quel che ci risulta nessun altro ente al di fuori dell'Agecom ad ora è stato coinvolto ed informato ufficialmente su questo progetto che riguarda l'implementazione della rete e non la sperimentazione umana sulle persone appunto come qualcuno vuol fare intendere. Dico questo, continua Tarallo, perché voglio rassicurare tutti sul fatto che l'amministrazione comunale sta facendo le opportune e doverose verifiche sia attraverso gli uffici comunali sia contattando personalmente fonti parlamentari e governative regionali e nazionali per avere un quadro più preciso possibile della situazione e del percorso che ci ha visti designati come primi fruitori della 5G. Appena avremo un quadro preciso ed ufficiale informeremo i cittadini anche attraverso incontri pubblici per sentire il parere di tutti e coinvolgendo gli esperti del settore oltre che le istituzioni e le aziende coinvolte ed io personalmente, conclude Tarallo, mi impegno affinché nessuna sperimentazione possa avvenire senza aver rispettato le regole in materia di salute pubblica ed il principio di precauzione che vuole dati certi e scientifici prima che si possa parlare di qualsiasi attuazione del progetto.